Dare risposta ai malati di atrofia muscolare spinale e alle loro famiglie va in questa direzione l'appuntamento che si è tenuto nei giorni scorsi a Treviso promosso dall'Associazione per lo Studio di questa malattia rara, una malattia neuromuscolare degenerativa che priva le persone della capacità di camminare, mangiare e respirare. Questo convegno è stato fatto per sensibilizzare la gente, per far conoscere più di questa patologia e anche per promuovere le cure che esistono. Un appuntamento che non è affatto casuale quello trevigiano, visto che da tempo due veneti, la trevigiana Sara Favaretto e il vicentino Mattia Lovato, con il sostegno di campioni come Roberto Baggio, lavorano per creare anche nella nostra regione un centro NEMO, una struttura per malati neuromuscolari. In Italia ce ne sono quattro e il più vicino è quello di Milano. Aiuta tantissimo perché là lavorano insieme tutti i medici che conoscono bene la patologia, che è una cosa rara perché può capitare che vai a un neurologo e non sa neanche di che cosa si tratta. Un'iniziativa appoggiata anche dall'Unione Italiana per la lotta alla distrofia muscolare. Creare un centro NEMO anche qui in questa zona, che possa appunto tutti i ragazzi con patologie muscolari o neuromuscolari, poter appunto avere un riferimento per progredire con la cura e per fare fisioterapia. Speriamo appunto di avere un posto per avere almeno dieci posti letto, quindi, e poi a rotazione, quindi comunque avere un centinaio di persone l'anno, di ragazzi disabili l'anno, che possono appunto accedere a questo centro. Avere, dare subito a conoscenza anche ai mari di nuove cure, di nuove terapie, per poter appunto aiutare il paziente a migliorare e a poter vivere tranquillamente. Le associazioni hanno già preso contatto con la Regione per arrivare a questo obiettivo. Il governatore d'Italia sta dando un grosso spiraglio per appunto aprire questo centro. I tempisti che in momento non ne sappiamo, spero il prima possibile.